Io da grande sognavo di fare la hostess e ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare questo desiderio. E tu cosa sognavi? Oggi come volontaria di Mission Bambini ti rivolgo questo appello perché anche tu possa aiutare con una firma tanti bambini a realizzare il loro desiderio. Il destino di tanti bambini è tutto da scrivere. Inizia con una firma. Dona il tuo 5x1000 a Mission Bambini. Grazie. Con il tuo 5x1000 puoi regalare a tanti bambini in difficoltà un futuro costellato di sogni da realizzare. Con il tuo 5x1000 puoi regalare a tanti bambini. Grazie a tutti.